Sono trascorsi sette anni dalla costruzione della nuova chiesa di San Nicola al quartiere Catino di Bari, la cui prima pietra fu benedetta da Papa Francesco. Quest'anno al ricordo si aggiunge la gioia dell'intronizzazione dell'immagine della Madonna di Guadalupe che arriva direttamente da città del Messico. Oggi abbiamo incastonato questa splendida immagine della Vergine di Guadalupe che diventa una perla preziosa all'interno di questa chiesa. Dopo sette anni dalla costruzione ci voleva proprio che una mamma fosse presente ad accogliere tutte le nostre intenzioni, tutti i nostri lamenti, tutte le nostre gioie. Nel corso dell'Omelia i sacerdoti hanno ricordato come il mondo in cui viviamo sia incerto, di quanto abbiamo bisogno di preghiera e l'immensa gioia della Madre Celeste nel vedere i figli uniti dal suo divin figliuolo. In questo particolare momento vi è grande necessità di aiuto dal cielo affinché al più presto cessino le guerre in atto. La mamma celeste riesce ad unirci tutti e la priera è fondamentale perché il Signore faccia cadere le armi dalla mano di questi delinquenti, di questi potenti. Maria nel Cenacolo dopo la resurrezione di Gesù è stata un po' il punto di riferimento di tutti i discepoli per cui ancora oggi lei ha la capacità di unire come ogni buona madre. Possiamo dire lei prepara il pane perché quel pane sia trasformato nel corpo di Cristo. Grazie.